Basta, basta fare il circo eh! Ok, abbiamo il nostro due contro due, due entrate a destra, veneranno selezionati poi due che si sfideranno. Per uno contro uno, a morte, a sangue, alla mia sinistra, BBOY CLEAN! Oh, 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 oh! Guarda! 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 Questo è il problema sempre dei chiamati d'Italia. Quella gente se ne va e quindi sul finale, sul più bello... Grimmelox! Grimmelox! Insieme a BBOY SPIDER! Sfideranno alla mia testa, BBOY, 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 BBOY! Oh, my God! Insieme a BBOY! Oh! Enrico! Shurik! Big up! Big up! Per tutti! Samurai Styles! Abbiamo il nostro due contro due, due intrati a testa. Come on, facciamo un po' di casino. DJ ci sei! Come on Pedro! L'ultimo pari! Palabra! Beato! 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 Bermuda! E' rosa! Abmediati! Da' ti, da' tii! Camilla! Grazie a tutti. 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 What? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Yeah. Oh my God. Yeah. 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 Yeah.